nello studio è molto importante stare molto attenti a quello che ci succede mentre studiamo ad esempio parliamo dei tic i tic sono appunto dei movimenti volontari che facciamo da quelli magari meno avvertibili magari che riguardano non so un dito del piede che irrigidiamo o la pancia che involontariamente irrigidiamo o magari anche un modo di respirare appunto compulsivo non naturale tutte queste cose che quando noi facciamo in maniera continuativa durante lo studio rischiamo di come dire sedimentare cioè di apprendere come parte di quell'esecuzione quindi rischiamo durante lo studio se non stiamo attenti ad evitare di prendere queste abitudini questi tic di impararle di apprenderle come parte di quell'esecuzione quindi certamente si ripeteranno anche quando poi suoneremo in concerto quindi dobbiamo stare molto attenti è molto importante perché lo studio è il momento in cui noi ci liberiamo al contrario di quelle cattive abitudini e evitiamo di prenderne è un po' come quello che riguarda qualunque vizio dove appunto è importante evitare che ci sia la suefazione la dipendenza invece io vedo che molti giovani musicisti quando studiano assumono proprio delle abitudini di cui non riescono poi a fare a meno di cui riescono a liberarsi anche soltanto cose che riguardano le dita il fatto per esempio di alzare inutilmente la mano dove non serve o di fare questo quando non serve o di non so di arricciare il mignolo tutte cose che magari hanno un senso in un particolare gesto tecnico ma quasi mai ma normalmente non sono necessarie quindi ecco nello studiare evitiamo di assumere quelle abitudini non necessarie cerchiamo di assumere al contrario un perfetto allineamento tra il gesto tra ciò che facciamo col nostro corpo e ciò che stiamo facendo col cuore con la mente cioè pensando alla musica ciao